Martedì scorso durante la presentazione ufficiale del candidato sindaco Giochino Pellitteri era seduto in compagnia del coordinatore regionale di Forza Italia Enzo Cibino, del coordinatore provinciale Pichene Mancuso, del segretario regionale del partito liberale Grazio Trufolo e del deputato regionale Pino Federico, tutti insieme per promuovere la candidatura del dirigente scolastico. Sono passati due giorni e come un fulmine a Cersereno succede che Massimiliano Falvo, coordinatore cittadino di Forza Italia, rassegni le dimissioni. E' stata proprio quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata proprio quella conferenza stampa. Nel momento in cui abbiamo assistito agli alloggi del partito nei confronti di persone che sono appena entrate senza neanche un accenno di riconoscimento a quello che è un gruppo che per tanti anni ha guidato il partito in città e oggi se c'è una struttura e grazie a quel gruppo è vero che nella vita siamo tutti utili e nessuno è indispensabile, però almeno un minimo di riconoscimento nei confronti di persone che sono spese e che credevano a un progetto vero di centrodestra in città almeno andava dato. Dunque lei si aspettava che in quella conferenza stampa almeno Gibbino, il coordinatore regionale, facesse il suo nome come l'artefice della rinascita di Forza Italia Gera? No, in realtà non volevo che facesse il mio nome, in realtà volevamo altro. Volevamo che facesse una scesta di Forza Italia per guidare questa città. Volevamo che il candidato fosse forzista. Il nome Falvo è soltanto un nome, non è una persona, è un concetto, è un'idea che noi volevamo portare a questa città, di cambiamento vero, reale, concreto, perché una mentalità di centrodestra in questa città manca, ma se noi non creeremo mai le condizioni affinché ciò avvenga, non ci sarà mai un retaggio per questo partito. È un partito che non crea continuità, è un partito che ha perso. È un partito spaccato. È un partito spaccato. De nuovo l'ennesima egemonia di Sena nei confronti di Gela, il candidato ci viene imposto sempre da fuori. Ma quando cominceremo ad aprire gli occhi e cominceremo a capire che questa città ha bisogno di dignità, e la dignità se la deve prendere la città stessa, perché altrimenti verrà sempre qualcuno da fuori, perché Gela rappresenta un problema, un problema per tutta la provincia, e noi così facendo non stiamo facendo altro che avallare questa situazione. È per questo che noi sbattiamo la porta e andiamo via. Lei si dimette da coordinatore cittadino, ma si dimette anche da Forza Italia. Mi rimetto da coordinatore cittadino e mi rimetto da Forza Italia. Ripeto, è stato retto più volte che questo partito esiste in città, perché è stato ereditato dalle macerie e dalle generi del PDL e da otto mesi soltanto esiste. Io sfido chiunque in televisione, ma anche il senatore Gibbino, Mancuso, Dasano, a fare un confronto. Per parlare realmente in questi otto mesi, questa Forza Italia, questo centrodestra cosa ha prodotto? Non ha prodotto nulla. Abbiamo parlato di governative con soggetti che poi alla fine abbiamo visto che cosa è successo, sono tornati a sinistra, con persone che non volevano fare un passo indietro. Cosa abbiamo prodotto in otto mesi? E ora Falvo che farà? Noi siamo fermi. Dunque pausa di riflessione adesso per Massimiliano Falvo. E se dovesse arrivare una chiamata ad altri esponenti politici? E non ci riferiamo soltanto all'area di centrodestra? La porta è sempre chiusa. Noi siamo persone di centrodestra e continueremo a lavorare per fare un centrodestra Forza in città. Perché, ripeto, è questo il nostro obiettivo. Noi lavoriamo solo ed esclusivamente per questo.